Continua la mobilitazione delle associazioni dei comitati cittadini ambientalisti contro la deriva petrolifera dopo il parere positivo della Commissione Ministeriale Via ai progetti Ombrina Mare, Elsa 2 e Rospomare. Gli attivisti sono al lavoro per organizzare otto iniziative, otto punti comuni per una terra libera dalle trevelle, dicono, a partire da una grande manifestazione no ombrina che si terrà sabato 23 maggio a Lanciano. Le attività da portare avanti sono state tutte discusse nel corso di due assemblee pubbliche, il 29 marzo scorso a San Vito Chietino e il 9 aprile scorso a Lanciano, con l'obiettivo di costruire una mobilitazione efficace e comune condivisa che sia in grado di fermare la petrolizzazione della costa chietina. Tra le attività su cui i comitati e associazioni stanno lavorando c'è l'impegno delle amministrazioni comunali a promuovere delle delibere, in cui si dichiarano contro le trivellazioni e a modificare la cartellonistica stradale aggiungendo al nome del comune la dicitura «Questo comune si batte contro la petrolizzazione dell'Adriatico». Le cantine sociali, inoltre, possono impegnarsi a inserire sull'etichetta delle bottiglie il logo NoTrib affinché la battaglia possa varcare i confini regionali e nazionali attraverso uno dei prodotti della nostra terra, il vino. Previsti, inoltre, il coinvolgimento dei commercianti, la mobilitazione dei cittadini per promuovere le adesioni alla manifestazione di Lanciano, la realizzazione di cartoline virtuali e il coinvolgimento degli stabilimenti balneari con l'esposizione di bandiere con scritto «Adriatico, un mare contro il petrolio». Alla mobilitazione hanno già aderito oltre 100 soggetti, tra associazioni e comitati, associazioni nazionali, sindacati e partiti, attività commerciali e cooperative, nonché enti locali, tra cui la Regione Abruzzo, l'assessorato regionale all'ambiente, Lanci, la provincia di Chieti e diversi comuni. Quindi invitiamo tutti ad aderire, a darti da fare, per portare tante persone a contrastare tutti i progetti che riguardano la costa di Atina e in generale il mare Abruzzo. La scelta del 2013 non è assolutamente finita, come vedete non... Grazie. Grazie.